Sì, la squadra ha lavorato molto bene anche nei giri piatti, nelle fughe. Io sono stato dietro a tenermi un po' le forze, poi nell'ultimo stroppo qua, visto che mi è andato dietro tutta la gara, ho dato tutto per vincere e fare la pinta. Quando hai capito che potevi vincere? Qua gli ultimi 50 metri perché quello che c'era amante a me si è impiantato e allora ho dato tutto fino all'arrivo. A chi la dedichi questa vittoria? La dedica va alla Gesseron che oggi fa 50 anni, visto che sono stato con loro 11 anni, poi va agli allenatori, al presidente, a tutti i miei compagni. Giosuè, sei soddisfatto di questo terzo posto? Sì, sono soddisfatto che arrivo da un po' di giorni e non ero tanto in forma, non spero neanche se partire oggi, quindi terzo posto è un po' più che bene. Giosuè, sei soddisfatto di questo terzo posto? www.pianetaciclismo.it Il sito che ti racconta il tuo spot preferito. www.pianetaciclismo.it Il ciclismo, come non l'avete mai visto.